Guarda qua possiamo provare il... Quella tutta l'area Ah qua ci si riesce Ok Oh è caduto dritto come una pera mona lo stronzo Come una pera mona è caduto ma sarà imbecille Ma porca adesso ci riprovo da qua No non posso farlo adesso No? È in grigio È in grigio eh Ah fa niente fa niente Fa un culo peccato Era bella Ah infatti ho visto Ah infatti ho visto Ago 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 E poi io morto Dì il mio nome Ma che pratica è arrivata su e io ho cliccato alle 1 e BOOM BOOM Io immagino una scena di il mio nome Tu sei Ago Hai fottutamente ragione No sei sputtanato Hai maldettamente ragione Sei sputtanato Ti devo fare una meme Ti devo fare una meme Il problema Ago è che sei appiccicato a una Ma scusa Siete tutti e due appiccicati a una roccia Ma no io sono dall'altra parte Eh no Io sono dall'altra parte Tu sei vagato Io sono dall'altra parte vicio Nooo Gli avevo visti partire gli altri Ti giuro Sei vagato davanti a una roccia Eh allora Aspetta Vediamo se ti rivedo Eh no beh ma se sono vagato no niente allora esco Record Keeper E di Final Fantasy Bellissimo te lo consiglio Eh se vuoi poi ti do il mio codice amico Possiamo giocare assieme Ago Online In multiplayer Allora hai dormito bene o hai picchiato il cuscino? Nooo Ho dormito davvero serenamente Dopo una bella Una bella Una bella pipa Ho dormito bene No vabbè fate gli scherzi L'ho diretto subito ero stanco Però è bello il mirino del cecchino eh Mi piace E' meglio di quello che avevo primo E' molto più vicino Ah gli bastardi l'hanno usato il jammer Oh io l'ho usato Ah anche loro Anche loro? Si si Ecco vedi adesso le partite sono interessanti Cazzo però sto vicino a me Cattura la torre Cattura la torre Cattura la torre Ehm Cattura la torre Cattura la torre Cattura la torre E' quello che ha messo il jammer Grazie Spara spara quando l'hai visto Spara spara Ucciso Grande ago Allora vieni a tirarmi su allora Anzi no 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 la torre la torre la torre Ehm Ok 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 Grazie Appunto perché Mi hanno distrutto il jammer O sono morto io Scendi Bomba Non vedo un cazzo. E' l'ami c'ho? Eh l'ho visto, l'ho visto. Vai dietro l'attore, sai perché lì c'è le... Ci sono le munizioni là. Ci sono le munizioni e è sicura. Ecco, mi ha preso. Vabbè, almeno l'avete visto. Niccio, vatti a curare, cazzo, quelle munizioni. E' lontano. Tu dove? Dove sei tu? Ah tu, pensa a lui. Spara, intanto ha 7 e 3 contro 1. Sta girando intorno a una... Eh, tirami su allora se vuoi. Intanto ci stanno passando loro. Non è che andrà tanto in giro quello eh. Più che altro sai perché... Perché c'è la... C'è la cassa di munizioni. Quello gira sicura, gira sicura, gira sicura. E' incredibile no? E' incredibile no? E' incredibile che uno stronzo solo deve rompere il coglione. D'integuire. Che cosa? Guardate queste parti qui stanno andando sulle montane mi sa? Questa è sulle montane... ...e' sulle montane lo sulle montane. è andato sulla torre quella alta quella lì dove è morto metal si infilerà dentro nella è la casetta io tengo sotto d'occhio la torre se vedo la sua testa di cazzo io la faccio saltare no no ma è là è là dentro nella torre è lì eh appunto ne ha tirato su un'altra va bene vaffanculo con la pistola di merda mi ha sparato ma vaffanculo va stava andando così bene la partita che ha uno sputo di vita gli manca un pixel ma sono in due eccolo il problema il problema è che sono in due lui adesso se ne va che mira di merda però cazzo non è una gran anche wow eh però adesso dovrei stare attento perché se lo resta sono cazzo anche abbiamo 40 secondi se non ci bicchiamo va in pareggio e nessuno dei due sinceramente no ancora andiamo in pareggio si non rischiare per due secondi perché sei morto? no non sono morto no perché ho fatto il pareggio abbiamo fatto la cagata intorno a quella roccia ma torca puttana idioti proprio cazzo minchia però ho avuto una mira di merda a dire qualcosa lo potevo ammazzare in tranquillità senza lanciare una granata invece quando ho iniziato a sparare purr l'arma andava a puttana questo è perché non hai la mira assistita è vero? si se avevo la mira assistita moriva allora mettila no per culo no anche perché con la mira assistita mira dovevo quando appena passa un nemico anche quindi si sposta è una bella merda e non voglio questo infatti no ma poi non ha senso lasciare la mira assistita no l'unico senso è che gli uno contro uno dovresti vincere la dovresti no perché mi ha messo questo personaggio di cazzo perché non mi ha dato il cecchino perché l'ha scelto un altro velo più veloce di te attenzione drone nemico ah vedi che i droni non stanno intorno al cerchio non possono andare oltre non ci sono e quindi vediamo la cittura di muura. Mi ha sparato le spalle Ago, quindi fa... Eccolo lì, Ago! L'ho vista, l'ho vista, l'ho vista. Che figata, quando tu miri e tieni l'occhietto chiuso. Che figo. Ce n'è uno sopra, ce n'è uno sopra la torre, Ago. Eh, l'ho vista, infatti, non posso restarti. Tranquillo, non c'è problema. Non fa niente, tanto. Ho fatto la puttanata io, è giusto che la paghi. Ma no, beh. Ah no, è giusto, Ago. Quello che è giusto, è giusto. Io ne sono due, fa' attenzione. Io ne ho visti due. Ecco. Eh, ma ho visto. Bastardo. Eh, sapevo dove ero. Sapevo dove andavo. Eh, eh, mi ciò, a qui. Oh, questo c'è il termico, lol. E dove si trova? Si trova qui, e si trova qui, se pareva. E ci morirà. E ci morirà come l'altro coglione. Ci morirà perché li resta tutti. E tanto adesso gli spara qui, cioè è lì, eh. Già uno, sì, striscia, lungo una... Hai visto quello che correva? E' tre contro uno? C'è tre contro uno. Credibile. Però tanto se c'è quello sulla torre, lo vedi. È già fruttuto. Ah, c'è una bella skill del cecchino che quando ti marcano, viene marcato automaticamente anche il nemico. Ah, fighissimo. Ecco. Alle spalle. Eh, tu sei morto nella posizione del cazzo. Perché mi vedeva, vedi che è sopra, mi vede. Eh, vedi, lì sono morto. Non avevo fatto un po' caso di cercare uno solo. Eh, ma l'aspirà che nessuno, nessuno è andato su quella, su quel caseggiato. E quindi noi eravamo tutta la città, e da quel caseggiato, fila di che vedi tutto. Come sulla torre. E me l'hanno preso, che bastardi di merda. E' sempre quello sfigato, lì, di prima. Adesso gli faccio una, se riesco ad arrivare velocemente. Mi voglio mettere il c4 dentro, ma cazzo. Se la sfiga è che le scalette sono proprio davanti al loro spona. Quindi non so quanta fortuna avrò. Uomo a terra, uomo a terra. E lì già. Mi fa un cuore, oh. Droni in volo. C'è che c'è dentro, oh. Uno è entrato, uno è entrato in tre casetta. I nemici stanno facendo rumore. No. C'è un cecchino sulla, sulla torre? No, no, non è sulla torre. È dove c'è quel masso, in fondo al loro spona. Vedi quella punta, è sotto la, è sotto il masso. Qui è morto quasi tanta vetro. Occhio, stanno facendo il coso. Rilevata attività ostile, segno la posizione. I nemici stanno partendo. Visuale nemica interrotta. Attenzione, rilevata attività ostile. Rilevata attività ostile, segno la posizione. E' un'altra cosa, non c'è. E' un'altra cosa. Ma si, vabbè, porco dio. Resta un nemico. Vediamo la partita. E' che è lì, dai! E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Ah, e se tu mi ci fai o no, ho visto. No, tranquillo. Ecco, è andato a tirare su quello dietro, eh. Ho visto. Fanno sulla cazzo di cosa. Eh, io avevo messo lì il C4, ma sono morto. Drono nemico sulla testa. Mi sta usando il drone. L'ho visto. Eh, che non ti hanno visto. Mi hanno visto? No, a me non ho visto. Eh. Ma almeno si chiama. Se non guardano da un'altra parte... Se non guardano da un'altra parte, non ti... Non ti... Veloce, 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 veloce. Ero nella casetta bassa. Ok. Casetta... Eh, casetta bassa dove c'è il caffetto di Torrentina, vero? Qua sotto, al primo piano. Da tutti gli altri suoi. Attento qua dentro. Ce n'è uno? Il nemico alla nostra posizione, muoviamoci. Mi stanno sorvegliando. C'è un segnale dalla torre di ricognizione, presto sarà attiva. Rilevata attività ostile, segno la posizione. Merda, uomo a terra! Ecco. Occhio alla strada, 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 al lato destro, amici. Bella. Ce n'è uno in strada. Davanti a terra. No, c'è Cristo! No, c'è! Occhio, entra, 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 entra! Entra! Ah, ma cazzo sono io! Vai, Iago, vai! Madonna, Iago, sto facendo dei numeri che minchi veramente. Ah, bravo. Perché... La torre di ricognizione è alla. Iago! Sopra la torre! Merda, uomo a terra! Porca... Eh, sali però. Vai, scale, 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 scale! Ah, è scoperto. Allora l'ho visto laggare... Potevo suicidarmi, però... Ma abbiamo vinto! Mmhm. Perché mi sei bloccata la schermata? Quanti punti ho fatto io, Iago? Non lo so. 960! Madonna! Sì, sì! Madonna, sei agitato! Nella beta ne facevo un millequattro. Vabbè, Iago, ma io sono un nebbo di merda, quindi per me vuol dire tantissimo. È solo perché la gente, tirandoli su, ovviamente fa... Fa caos. Iago scusami, ma mi eccito con poco. Cazzo, perché non faccio una live? Perché in quando faccio sti numeri non faccio mai una cazzo di live? Perché non sei concentrato tanto. Eh, però scusa, se salvi le clip non puoi buttarle poi su. Su YouTube. Vero. Passa al lato oscuro della forza, iscrivendoti al canale di JackWhite28.